Al Capraresi di Spoltore la cantera si gioca l'accesso alla finale nell'ultima gara dei gironi di Coppa Abruzzo contro un San Gregorio che scende in campo con tante seconde linee e tanti volti giovani. La cantera impiega solo un minuto e mezzo per passare in vantaggio con Fusco che anticipa Scimia, la supera e insacca nella porta vuota la rete dell'1-0. La squadra di casa continua a spingere e sfiora il secondo gol con il doppio tentativo di Limongi dopo una bella imbucata di Fusco. Raddoppio che arriva al quindicesimo, Udin non riesce ad allontanare di testa e ne approfitta Cobo con un bel diagonale al volo che si infila all'angolino. La cantera è in totale controllo e al ventitresimo realizza la terza rete. Brava gatta che recupera il pallone in mezzo al campo e serve subito Fusco in verticale. La numero 8 ha spazio per controllare e far partire il tiro che Scimia non riesce a respingere. Nel finale di tempo cresce il San Gregorio che prova a reagire e si rende pericoloso con la conclusione da limite di Valente. La cantera parte forte anche nella seconda frazione e sfiora il poker dopo un minuto con Limongi. Al tredicesimo altro brevido per il San Gregorio sul cross di Fusco che diventa quasi un tiro e si stampa sulla parte esterna del palo. Un minuto più tardi ancora protagonista la numero 8 che calcia da ottima posizione ma non riesce ad angolare la conclusione. La cantera attacca sempre più insistentemente e chiama Scimia gli straordinari. L'estremo difensore ospite si salva con un triplo intervento di piede. La numero 1 però al trentunesimo regala di fatto il quarto gol alla cantera con un errore che Limongi e Fusco sfruttano per la tripletta personale della numero 8. Al trentaseiesimo sfortunata gatta, bellissima la sua conclusione che centra in pieno il palo. Quinta rete che arriva al quarantunesimo con un gran tiro di Di Credico che si infila all'angolino ed è il gol decisivo per il primo posto nel gruppo B. Con questa vittoria la cantera chiude con 7 punti al pari della Virtus Sanxanum ma grazie alla miglior differenza reti stacca il pass per la finalissima.